Un'associazione di artisti calabresi a Soveria Mannelli. Il senso di questa cosa. Siamo veramente orgogliosi di aver ospitato questa mattina a Soveria Mannelli l'associazione Lemuse di artisti calabresi che hanno portato nella nostra comunità una mostra che resterà fino al 16 maggio, quindi tutti i cittadini sono invitati a visitarla e ha il senso questa visita di indicarci una strada attraverso cui poter uscire dal buio delle amministrazioni del sud che sono costretti a abbrancolare nel buio. Attraverso cosa? Attraverso lo strumento della bellezza. L'arte è uno strumento di bellezza e quindi siamo convinti che se condividiamo con gli artisti questa visione o questo modo di vedere il mondo avremo sicuramente gli strumenti in più per poter dare di più alle città amministrate. Grazie. 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 Grazie.